Annunziata alta, San Licandro scala il ritiro, ma non solo. Quotidianamente giungono nel Consiglio della Quinta Circoscrizione la Mentele circa i servizi resi da poste italiane. La distribuzione e la consegna della corrispondenza fanno acqua da tutte le parti, i cittadini sono ormai esasperati. In particolare la Mentele giungono tanto dall'Annunziata Alta quanto da San Licandro, dove la consegna della corrispondenza avviene in maniera del tutto incostante ed in forte ritardo, con gravissimo pregiudizio per l'utenza. Si tratta di una situazione assolutamente non più tollerabile, spiega il consigliere della Quinta Circoscrizione Paolo Barbera, considerato peraltro che per usufruire del servizio postale i cittadini pagano tariffe sempre più alte e che quella di ricevere la corrispondenza da parte di poste italiane e non di altri operatori spesso non è una scelta del cittadino. Altra questione che sta generando numerosi merumori riguarda poi l'ufficio postale di scala a ritiro, sportello sito in un contesto molto popoloso che interlune giornate registra fino a 500 operazioni. L'ufficio fino a circa tre anni fa contava cinque addetti allo sportello, oggi ridotti si appena due. Ciò comporta una significativa attesa per gli utenti, attesa che diventa biblica nel momento in cui qualcuno degli operatori assenti o nel periodo di pagamento delle pensioni, con gli anziani che già a partire dalle tre di notte si mettono in fila davanti allo sportello per acquisire una priorità.